Chi è Emanuello, il compagno di E il nuovo professore di Amici? Emanuello dal 2010 è fidanzato ufficialmente con la cantante Giorgia, con la quale ha avuto un figlio. Samuel, nato nel 2011. I due, nonostante siano legati da tempo, hanno deciso per il momento di non sposarsi. Volto noto nel mondo dello spettacolo, Emanuello è uno dei professori di ballo dell'edizione di Amici 2023. Coreografo, ballerino e cantautore, è già apparso nel programma nel 2016 come giudice di E-Pub. Emanuello, il cui nome all'anagrafe Emanuello Iacono, è nato a Roma nel 1979. E un artista a tutto tondo e fin da bambino ha portato avanti sia gli studi di danza che la passione per la musica. Alla fine degli anni 90 debutta come ballerino e aiuto coreografo in diversi show televisivi. Il Rai è Mediaset, e parallelamente si esibisce all'estero accompagnando artisti come Robbie Williams. Kylie Minogue e Ricky Martin nello loro torne è... Nel 2010 si è occupato delle coreografie di X-Factor. Nell'ultima edizione targata Rai e nel 2016 è apparso ad Amici come giudice di E-Pub. Nello stesso tempo ha portato avanti una carriera anche nel mondo della musica. Legata principalmente alla fidanzata Giorgia. Ha lavorato con lei al suo album Stonata. Curando la scrittura dei testi di alcuni brani famosi, come Il mio giorno migliore. Dove sei e sembra impossibile. Nel 2007, Emanuello ha debuttato con il suo singolo Woffer. In collaborazione con il rapper Tormento e due anni dopo il suo album Cambio Tutto. A partire dal 2011 si afferma anche come regista di diversi videoclip, sempre in ambito musicale. Come quelli di Clementino, Ornella Vanoni, Deddy, Giordana Angie e molti altri. Nella vita privata di Emanuello, da quasi 20 anni, c'è Giorgia. I due si sono conosciuti nel 2004 e ad accomunarli e unirli ancora di più c'è stata sempre una grande passione per la musica. Come testimoniano le diverse collaborazioni degli ultimi anni. Nonostante un amore forte e duraturo. Hanno deciso per il momento di non fare il grande passo e di non diventare ufficialmente marito e moglie. Si poate-ti dau totul peste cap, ca poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi, nimic nu mai e la fel, pupilăria s-a maturizat sever. S-a luvit până acum de fel, de fel, de oameni, de păreri, enti pur de caracteri. Și-văd cu my-a!